ho comprato questo vecchio incisore co2 vecchio malandato a poco più di 200 euro ma quello che ci dobbiamo chiedere è ha senso oggi a settembre 2025 acquistare ancora una macchina del genere con tutti i suoi limiti di fabbricazione sappiamo che come usciva da fabbrica era praticamente inutilizzabile infatti quasi tutti facevano svariati upgrade prima di poterlo utilizzare al meglio oppure meglio orientarsi su macchine più moderne che comunque negli ultimi mesi stanno abbassando il prezzo allora lo sappiamo chi sceglie di acquistare una macchina co2 lo fa principalmente per tre motivi i primi due stanno venendo un po superati dall'evoluzione dei nuovi laser diodo perché se una volta un laser co2 era nettamente superiore di potenza rispetto un diodo gli ultimi diodo invece hanno raggiunto macchine come queste addirittura superato quindi la potenza non è più un fattore incisivo per la scelta di un co2 anche la velocità solitamente i laser co2 sono più veloci nella lavorazione rispetto a un diodo ma anche in questo caso i laser diodo si stanno avvicinando molto in alcuni casi addirittura superando questi elementi quando parliamo di laser co2 di fascia bassa il terzo elemento che ci fa scegliere una macchina co2 cosa che il diodo non potrà mai fare è il tagliare l'acrilico trasparente il plexiglass come vogliamo chiamarlo comunque altri colori che il laser diodo non riesce a tagliare proprio per la lunghezza d'onda del suo fascio laser quindi se vogliamo una macchina che possa fare questa operazione per forza necessitiamo di un laser co2 era da un po che desiderava un laser co2 ho guardato diversi modelli ma effettivamente il costo non andava a giustificare l'utilizzo che ne avrei fatto perché col diodo riuscivo a fare il 99 per cento delle operazioni mi mancava appunto la possibilità di tagliare l'acrilico trasparente un mesetto fa ho visto una buona offerta di una macchina evoluta era sempre un k40 di una nota marca che però aveva aggiornato tutta la macchia con un nuovo sistema soprattutto con la possibilità di utilizzare per le nostre lavorazioni light burn infatti era stata cambiata la scheda di controllo più diverse altre migliorie poi una sera sul divano vedo un annuncio su marketplace e leggo laser co2 k40 completamente revisionato con piano z controllato da light burn scheda di controllo aggiornata e altri upgrade che non mi sto ad allencare contratto il venditore faccio un'offerta e l'accetta quindi mi porto a casa questa macchina qua devo essere sincero quando ho aperto il pacco la delusione è stata tanta fili scoperti il piano z che in teoria era controllabile da light burn così è completamente inutilizzabile che disastro a parte l'estetica che come vedete lascia desiderare e tenete conto che io ci ho dato una bella pulita perché quando mi è arrivato era completamente nero tutto rovinato sporco con pezzi di scotch attaccati a tutte le parti ma quello che mi ha spaventato di più è stato quando ho aperto il vano dell'elettronica là era un disastro è stata una caccia tesoro capire come era strutturata tutta l'elettronica piano piano prendevo un filo cercavo di scoprire da dove arrivava dove finiva ma è stato veramente difficile tenete presente che tutti i bottoni che vedete sono stati cambiati perché come mi è arrivato invece aveva una serie di bottoni non utilizzati collegati a un filo che moriva la un filo interrotto poi quello che doveva essere il piano z controllato da light burn si è dimostrato invece un pianetto con un motore passo passo che era tutto instabile non si riusciva ad alzare ad abbassare perché andava a toccare sul telaio che era stato tagliato dal precedente utilizzatore per avere più spazio in altezza per le lavorazioni ma il pianetto z era inutilizzabile grattava sul telaio tagliato male e comunque quando si andava a alzare le viti senza fine con puleggia si alzavano dal supporto inclinando in maniera osce del pianetto quindi era completamente inutilizzabile la mia idea era di prendere questa macchina sperare di trovare una macchina funzionante con elettronica a posto e valutare l'ampliamento del telaio e arrivando a una misura di lavorazione di 60 per 30 centimetri originariamente come adesso il k40 può lavorare massimo 20 per 30 centimetri ci sono diversi maker li possiamo trovare sui gruppi facebook su youtube che mostrano come hanno modificato tutta quanta la struttura per avere più spazio di lavoro tanti hanno perfino deciso di estrarre completamente tutto il materiale dal case e fare un incisore laser co2 esterno un po come avviene per i nostri diodo devo essere sincero io quell'opzione non la consiglierei comunque il co2 ha una macchia diversa al laser diodo perché il tubo emette il fascio laser che viene poi riflettuto sulla superficie che dobbiamo andare a incidere o tagliare attraverso degli specchi basta un errore di calibrazione su questi specchi o comunque una superficie riflettente che può mandare il raggio ovunque anche addosso alla nostra persona quindi un laser co2 aperto non lo vorrei mai questo è il pannello provvisorio che ho fatto perché quando avrò deciso che modifiche a portare a tutta la macchina e avrò un progetto definitivo farò anche il pannello definitivo e ovviamente non lo farò in multistrato di pioppo ma lo farò con l'acrilico o una macchia che lo può tagliare ed è la morte sua tutta la strumentazione che vedete anche se in parte montata e in parte smontata era già presente nel laser che aveva acquistato ma era scollegata era penzoloni non era funzionante quindi con l'aiuto di una persona carissima si chiama sebastiana un ragazzo siciliano che mi ha già aiutato a configurare anche mac 3 per la mia cnc ma anche su questo sto preparando un video dove vi spiegherò come ho rimesso in vita la cnc e l'aiuto che mi ha dato questo ragazzo anche per questo co2 devo dire che sebastiano mi ha dato diverse dritte guidandomi passo per passo su alcune modifiche che veramente avevo difficoltà a fare da solo quindi qua abbiamo il tasto on off che accende tutta la macchina abbiamo il tasto per attivare o disattivare il laser solo il fascio laser abbiamo la temperatura dell'acqua perché sappiamo che il tubo del laser co2 deve essere raffreddato abbiamo il tasto di test che ci serve in mandare un piccolo impulso per fare la calibrazione degli specchi cosa che era assente nella versione che mi è stata mandata non c'era proprio quindi ho dovuto ripristinarlo e cercare come fare il collegamento esatto e abbiamo il pannello di controllo della scheda mks questo invece è la scheda mks 32 che ci permette di utilizzare il k40 questo incisore a co2 con il software light bird ricordiamoci che nativamente questa macchina non era possibile utilizzarla con light bird quindi era nettamente limitata verso altre macchine più moderne che permettono invece di utilizzare quello che è il software principe per le incisioni laser come vi dicevo il telaio di base è stato tagliato e sono stati aggiunti circa sette centimetri di spessore di legno questo permette di avere effettivamente un'altezza dell'asse z maggiore per fare lavorazioni su superfici più importanti o magari per usare un rotary cosa che comunque può tornare utile ma il pianeta dell'asse z che era stato venduto come controllabile in alzata da light bird andava a incastrarsi non si muoveva bene e si bloccava in continuazione quindi per ora l'ho rimosso e ho semplicemente messo un cricchetto posso semplicemente con una leva qua sotto girare alzare e abbassare è una cosa assolutamente provvisoria brutta da vedere scomoda però comunque efficace portata alla misura giusta basta andare ad appoggiarci sopra il nido d'ape per poter fare la lavorazione ovviamente la misura giusta la andiamo a trovare con dei distanziatori che ci siamo tagliati al laser avevamo iniziato questo video chiedendoci se effettivamente aveva ancora senso oggi acquistare una macchina come questa ci sono incisori co2 di fascia professionale industriale che costano diverse decine migliaia di euro sono anche ingombranti e difficilmente possiamo tenerli nel nostro laboratorio nella nostra abitazione negli ultimi anni sono uscite delle versioni compatte delle versioni desktop ne ha fatta prima l'xtool una molto buona poi l'atom stack un'altra sono comunque macchine che costano più di 1000 euro e magari non è giustificata una spesa per l'utilizzatore saltuario ci sono delle ditte invece che hanno rivisitato questa macchina che comunque aveva le sue potenzialità e l'hanno resa moderna e utilizzabile con light burn ha senso allora magari per risparmiare qualche centinaia di euro acquistare una macchina come questa che comunque ha bisogno di diversi interventi per essere ben funzionale vi posso dire che se siete persone completamente estranei magari all'utilizzo di un semplice multimetro a fare una stagnatura a comunque andare a smontare le guide a fare due lavorazioni e via dicendo no lasciate stare non è la macchina che fa per voi ma come spesso accade chi utilizza incisori laser macchinari del genere sono comunque persone che hanno comunque una discreta dimistichezza nel fai da te quindi con delle lavorazioni neanche troppo complesse anche queste macchine possono arrivare a degli ottimi livelli una risposta definitiva ve la do però fra qualche giorno sono in contatto con una ditta e probabilmente fra qualche settimana potrò testare qua nel mio laboratorio la loro macchina e la potrò dirvi se effettivamente una di quelle macchine a fascia di prezzo contenute aggiornamento di un vecchio K40 possono essere la soluzione ideale per tutti che altro dirvi spero che questo video vi sia piaciuto più che vi sia piaciuto che vi sia stato utile tanti di noi mossi dal bisogno primordiale di tagliare la clinica trasparente guardano sempre un po con un occhio bramoso le macchine CO2 fra poco confido di mostrarvi anche questa nuova macchina modello evoluto e poi traremo insieme le nostre conclusioni come al solito iscrivetevi mi piace e commentate un commento anche un ciao che recensione schifosa ma scrivetelo scriveteci qualcosa va bene vi saluto ciao a tutti a presto